Siamo con Noemi Cantele, portacolori della Bepink. Noemi, quest'anno sei tornato al successo e hai ritrovato fiducia nei tuoi mezzi dopo un 2011 difficile. Con che ambizioni ti presenti a questo giro? Non ritengo che l'anno scorso fosse difficile, ho vinto due maglie e tricolore. Quest'anno ci sono nuovi obiettivi, c'è l'Olimpiade, ho trovato successo praticamente tutti mesi e sono alla parola di un fracassi giro in Italia con grande ottimismo, grande motivazione e mi obiettivo quello si promette di vincere una tappa e di riferire alla preparazione di vincere l'Olimpiade. Quindi c'è questo giro solo per centrare i successi in tappa e non per fare classifica? No, sicuramente la classifica non sarà il mio obiettivo perché non sono mai riuscito a una gara così lunga a curare anche la classifica e poi perché non ritengo il mio obiettivo principale personalmente. Hai segnato qualche tappa in particolare o alla giornata cercherai il successo? Ci sono secondo me più tappe che possono essere adatte alle tante caratteristiche, la prima è quella di Montecatini, poi c'è la tappa di Sensa Maggiore, la tappa di Boghera e poi la tappa di Varese, secondo me sono le tappe più adatte di me per questo. Grazie.